Quando i riusciano a seguire le gare di snowboard non li facevano più uomini Uomini Scusa, erano il 9, si il 9 ma era appena E' qua, attenzione a questa uscita, lei va a dettere, rimane così e fa questo late, questa rotazione in ritardo per aggiungere lo stile Giudici, ti voglio vedere adesso, perché ho 87 punti con la run di prima Adesso si sfora nel centro Allora, questa è una run superiore Poi, se i giudici le danno di meno, hanno fatto il loro lavoro, hanno visto le loro problemi 1080, ha grebato, ha grebato per 360, ha grebato, ha toccato la tavola, manina giù